Se la gamma di opzioni disponibili in coda di rendering di After Effects non ci basta, possiamo esportare aggiungendo alla coda di Adobe Media Encoder, che è l'opzione consigliata. Nel momento in cui lo facciamo, verrà aperto Media Encoder e il nostro filmato sarà qui pronto per essere esportato. Ora, cosa è da dire su questo pannello di Media Encoder? Questa è l'ubicazione del salvataggio, per cui io qui gli posso dire scrivania e il mio file verrà salvato su scrivania. Qui abbiamo un pannello a sinistra dove ci sono i preset. Al suo interno troviamo un sacco di preset di formati diversi che possiamo utilizzare. Se io voglio utilizzare uno di questi formati, per esempio, non faccio altro che prenderlo, trascinarlo all'interno della finestra e ho aggiunto il mio formato per Facebook. Se clicco posso modificarlo ulteriormente, quindi posso modificare la qualità, posso modificare il rendering alla profondità massima. Ecco, una cosa importante è il bitrate di destinazione. Se io vado ad agire su questo parametro, determino il peso finale del mio file. Vado a ridurne un po' la qualità, ma vado a ridurne di molto anche il peso. Ora ho impostato su 12. Se io vado, per esempio, a selezionare 5, il mio file peserà circa la metà. Ora, in questo caso io ho lasciato entrambi i file. Nel caso io volessi esportare solo quello dal preset che ho scelto, non faccio altro che selezionare quello che c'era già, che deriva dal mio ultimo export. Premo delete, gli do ok, io lo cancello. In questo modo, premendo la freccia verde, sono pronto a esportare solo il formato che ho selezionato nell'ubicazione che gli ho dato.